Finita l'estate, è tempo di tirare le somme, soprattutto a livello economico. Nella regione molise, non di certo famosa per il settore turistico, un ulteriore netto calo delle presenze e degli arrivi a termoli, sia negli alberghi che nelle strutture extra-arberghiere nei mesi estivi 2016. Lo rivelano i dati diffusi dall'azienda autonoma di soggiorno e turismo. Si tratta però di dati che tengono conto soltanto di quanto ufficialmente dichiarato dalle strutture ricettive delle città e a cui sfuggono, per fare un esempio, le case vacanze e gli appartamenti privati. In particolare giugno ha fatto rilevare un calo del 40% di arrivi e del 20% di presenze. A luglio bene gli arrivi, meno per le presenze. Infine ad agosto, completamente in negativo. Sono soprattutto gli stranieri a far registrare una drastica picchiata delle presenze che si attesta attorno al 30% in tutte e tre i mesi dell'estate 2016.